collezione tester ICE qui abbiamo i famosissimi tester ICE 680R questa dell'ultima serie 70 euro qui abbiamo serie prima che c'è ancora il selettore per moltiplicatore della lettura 40 euro qui c'è la serie prima dell'ICE tester ICE 680 questa serie prima vedete e sono due modali differenti 40 euro cada uno e qui abbiamo un rarissimo transistor sempre dell'ICE 60 euro questo è introvabile c'è anche il suo manualetto è introvabile e sempre dell'ICE abbiamo la pinza amperometrica da mettere con il suo meter che va bene nella serie ICE 680R 680G eccetera nella sua portata di misura col suo divisore di portata 50 euro e qui invece abbiamo la pinza amperometrica intera completa anche questa 60 euro e c'è il selettore per cambiare la portata e questo è un beta tester che all'inizio era marcato ICE poi dopo se l'è fatto fare a nome beta che è un tester automobilistico col Dwell eccetera questo lo do per parte di ricambio 50 euro rarissimo non se ne trovano più chi interessano benvenuti agli acquisti che vuole fare la collezione che è spettacolo ciao a tutti